Finalmente il Presidente del Consiglio ha preso atto che le proposte che aveva avanzato Italia Giva sul metodo di lavoro sono proposte assolutamente positive perché come sapete è scomparsa tutta la questione sulla governance che si voleva portare con un emendamento in legge di bilancio ed era scritto sul testo che ci era stato consegnato e quella parte non c'è e finalmente si incomincia a discutere con i numeri e nel merito dei vari progetti. Oggi abbiamo avviato questo confronto, abbiamo posto delle questioni, ci siamo riservati di poter presentare un nostro documento sulla base di quello che ci è stato consegnato ieri sera perché stiamo discutendo di 207 miliardi di euro che devono essere utilizzati per risolvere i problemi di questo Paese.